Allora, l'altra rete project, durante la festa di laurea, della terza laurea della dottoressa Francesca Trampano, ha apposato di fare una brevissima intervista. Le volevo, le volevo proprio fare una domanda, una qualche domanda, sull'emozione, sull'emozione di questo momento, cioè come si vive? Come si vive? Un posto traquattro, così importante. Giovanna, scusami, scusami. Non mi devo domandare. No, non mi volevo domandare. Come si vive? Perché non lo vedi, un traquattro e un po' di rosa. Vicente, vicente. Ma stai qui? Ma stai qui? Ma stai qui? Ma stai qui? Siamo qui. Allora, le emozioni sono state fatte prima di me. Sì, allora. Non ci conosciamo, è una brevissima intervista. Parlo, parlo. Sul calaccio della sua collega. Eccezionante. Guardateci i piotti. Proviamo a sentire questa video. E' un po' un po' emozionante. Ah, bravo e tu. Alla prossima, Lava. Stavo molto sentito. Basta, metto. Passi a te, guarda. Oh, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again. Like we did last year. Do you remember when? We really hung in. Yeah, let's twist again. Christi time is here. Yeah. Round and round and all. Allora, let's do it. Allora, let's do it. Allora, let's do it. Grazie.